devi essere comunque allenato per dissarmi devi essere abbastanza coraggio devi stare anche attento il dissing poi stiamo parlando dell'arte di fare rap io in quella roba sono lapidario passa dal basement passa dal basement passa dal basement bella raga nuovo appuntamento nuovo passa dal basement insomma sono contento che vi stiano piacendo queste chiacchierate che stiamo facendo personalmente sono mega interessanti ma soprattutto sono diventate occasioni per rivedere degli amici per parlare di cose di cui magari quando ci si becca nella frenesia di un live o di un evento o di un qualsiasi cosa magari ci si perde un po' qui invece ci si ritrova e sono molto contento perché è passato dal basement Ensi senti il pubblico del live questo l'ho registrato questo pubblico l'ultima volta che ci siamo visti a Roma durante una finale mondiale del Redwood Alphcourt dove c'era un casino di gente quindi questo è un vero speech no in realtà non è vero volevo fare la gag però credo che si è registrato no lì c'erano anche delle urla di diverso genere esatto più anche romanacce questo mi è partito così è la magia è la magia si vede che doveva arrivare la magia è il momento dell'intro esatto a tutti gli effetti però scherzi a parte ci siamo visti effettivamente l'ultima volta in quel live sarà che era tanto che io non vedevo tanta gente insieme sarà che era c'era era un live subito dopo un evento sportivo molto bello boh mi sembrava di essere a Brooklyn quella sera io la ricordo eravamo a Roma zona San Lorenzo un torneo molto bello Red Bull Alphcourt e alla fine sei arrivato anche tu con la musica e la gente poi è bellezza anche per me è stata veramente una giornata incredibile anche perché eravamo nel pieno di stiamo partendo o non stiamo partendo è vero quella roba a metà infatti anche chi organizzava l'evento ci diceva mi raccomando non potete chiamare la gente e farla venire sotto il palco solo che se ti ricordi c'era palco campo da basket gente e poi scusa ma secondo te come posso fare non sono un genio dell'organizzazione degli eventi ma secondo te non appena io accendo il microfono e dico eh eh tutta quella gente non verrà cosa fa esatto fa sì succederà però tu non lo devi dire quindi ho semplicemente detto eh eh buonasera a tutti eh mi sono girato a guardare il DJ mi sono rigirato era pieno di gente è stato molto bello molto bello veramente veramente figo però questo succede sempre da quando ti esibisci tanto tu hai iniziato come tanti in realtà soprattutto che arrivano dal tuo genere musicale hai iniziato presto sì questo secondo me è un genere che nella nell'adolescenza piena ti ti totalizza sì secondo me forse non voglio metterlo a parallelo con altri generi perché chiaramente mi sono innamorato di sta roba quindi non però vedo che veramente ha questa forza perché ha si porta tutto dietro non è solo ascolto questa musica questa musica è anche un codice questa musica ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi come quello del design come quello del cinema come quello è una cosa che sta al di sopra di tutto e quindi chiaramente quando ci arrivi a contatto anche oggi dove magari ti manca rispetto a me quella sensazione quasi tribale di far parte di qualcosa di nicchia oggi è far parte della massa far parte di sta cosa perché questa cosa è cambiato però nonostante questo ha la sua accezione cioè quelli che proprio sono poi veramente infuocati di questa musica e di questa cultura e magari masticano di tutto magari gli permette secondo me di essere completamente presi perché c'è troppo c'è ogni aspetto io non ogni giorno scopro una cosa legata a questa musica a questa cultura che non conoscevo che mi stupisce che mi appassiona magari succede anche negli altri generi però questa cosa secondo me per un ragazzo giovane e soprattutto che la nostra musica è una musica fatta di parole adesso un po' di meno ma non mi ci vorrei troppo soffermare però di base è una musica fatta di parole quindi i ragazzi si sentono proprio coinvolti nella loro lingua tu ti riconosci in qualcosa io ti dico ad esempio un altro dei motivi per cui sono molto contento che tu sia qui è che nel mio periodo adolescenziale ero un grandissimo ascoltatore di rap italiano mi ricordo ancora di quando l'ho scoperto per la prima volta avevo tipo forse ero avevo 15 anni un amico su un cd mi fa ascoltare un mixtape però bevare da lì basta mi sono impazzito perché mi faceva sentire parte di qualcosa sentivo che alcuni raccontavano qualcosa che io vivevo e che volevo in qualche modo manifestare ma che non riuscivo e quindi mi appoggiavo sulla musica degli altri e ricordo ad esempio l'album con i One Mic che fu per me incredibile colonna sonora di incredibili viaggi verso la scuola all'epoca quindi non è che si andava chissà dove però anche quello anche voi in quel momento rappresentavate tantissimi tantissimi ragazzi tu lo ricordi quel periodo? wow certo guarda questo è un periodo che stiamo raccontando molto perché è notizia fresca che sta succedendo qualcosa con i One Mic abbiamo pubblicato un Instagram page che non esisteva stiamo arrivando a un dunque e succederanno delle cose legate a quel gruppo a quella storia che non è mai stata troppo raccontata però ne stiamo parlando molto quindi parlandone poi anche con gli altri tanti ricordi stanno venendo ancora fuori e lo ricordo come un periodo fantastico perché coincide con quel periodo appunto della seconda adolescenza dove tutto pesa diversamente cioè le incazzature come l'essere innamorati e quindi io collego tutti quei momenti un po' romanticamente della mia formazione come uomo a quel periodo musicale perché io ero un'attività stavo facendo comunque musica con i ragazzi facevamo musica e nel mentre ci preparavamo ad essere uomini fondamentalmente quindi è stato un periodo veramente veramente importante per me anche perché quando facevate quando eravate One Mic e in generale quel momento di quella scena oggi viene ricordato sempre in modo molto glorioso leggendario cose pazzesche eccetera però ovviamente mentre lo stavate vivendo non era così bello vero? cioè questa roba è sempre mi viene in mente quando non mi ricordo Fiorello in un'intervista gli hanno detto cosa ne pensava degli anni 90 e lui diceva mentre vivevamo gli anni 90 pensavamo nessuno si ricorderà mai di questi anni di merda cioè questa è stata la sua risposta noi uguali cioè noi abbiamo fatto quelle cose senza minimamente sapere come cioè ma era così anche per gli altri che erano con noi in quel periodo uscirà un documentario a breve quindi ne parleremo ampiamente anche però il rap in quel momento parlava il rap quindi era un po' quella la visione la sottocultura e soprattutto in quegli anni dove erano ancora ben definite questa era destinata ad esplodere cioè noi lo sapevamo ma non eravamo consapevoli o comunque non ci avremmo per forza scommesso tutti il mio era tutto un sogno nel 2012 era proprio quel racconto lì dire sapevo che questa roba avrebbe fatto il giro come succedeva in Francia perché mi era successo mille volte di andare là era solo una questione già all'epoca già all'epoca vedevi la scena francese si si ascoltavo già nei primi 2000 ascoltavamo un sacco di rap francese o di roba UK che ci arrivava comunque c'era già internet noi arriviamo a cavallo fra l'analogico e il digitale un po' meno facilmente reperibile meno facile però per noi che avevamo una fame incredibile vuoi mettere aspettare un disco tre mesi o averlo quasi in time con l'America cioè lì abbiamo ci siamo anche aggiornati si è aggiornato il repertorio il rap italiano proprio stilisticamente anche se si parla tanto degli anni 90 chiaramente che sono stati il seme che ha fatto nascere tutto chiaramente nulla a togliere però è stata la scuola dei 2000 che ha permesso poi alla scuola del 2016 di partorire i vari gatti gli sfere basta le star che oggi possono fare questa cosa con un richiamo anche internazionale tutta quella scena là tecnicamente era pronta ed era valida perché la scena dei 2000 è stata la fucina ha preso quello che era buono degli anni 90 e l'ha trasformato in qualcosa di più grande anche perché è vero gli sbagli degli anni 90 non li ha rifatti noi infatti eravamo una scena unita nei primi primi infatti c'è qualcuno forse che era avanti ma quasi troppo avanti nel senso che a volte il momento preciso non è per forza l'essere avanti ci vuole proprio un momento particolare perché poi appunto c'è stato un grande momento in cui tutto pian piano è iniziato a diventare un pochino mainstream e ci sono anche nomi magari che per molti che hanno frequentato la scena leggendari che però non sono riusciti ad andare al passo e a raccogliere quello che per primi hanno seminato cioè lì che cosa è successo secondo te? e lì secondo me scatta qualcosa anche a livello umano per comunque i superstiti di quegli anni i sopravvissuti di quegli anni comunque non hanno avuto una vita facile cioè vedere un Fabri ancora oggi che c'era già dieci anni prima di me fare ancora questa roba con grandi risultati essere ancora un punto di riferimento per i ragazzi se gli gira bene ancora fa una cosa che ti dà un passo capito? nel senso essere ancora influente significa che quella scena veramente non era lì tanto per esserci i Dogo ho fatto il nome di Fabri per prendere il primo che ha avuto un successo mainstream importante in quegli anni però veramente i sopravvissuti di quegli anni tra l'altro stanno facendo i loro dischi migliori questo a mio avviso dischi che ancora secondo me su grande scala addettano ancora legge sul mercato al di là degli exploit che ci possano essere di un sottogenere piuttosto di una nuova wave piuttosto che di qualche scalpore sui social però quella gente che un po' io arrivo dai racconti di quella roba perché io vengo spesso collegato a quella generazione ma mi passo quasi dieci anni con loro effettivamente ero un rookie quando loro già iniziavano a essere un 9 il mio problema tra virgolette che sono esploso presto come tanti calciatori però veramente noi negli anni in cui abbiamo iniziato pensavamo cazzo dovevamo nascere dieci anni prima perché oggi non c'è più niente nel 2012 2013 2014 quando questa cosa poi finalmente è diventata importante sul serio in maniera solida abbiamo pensato cazzo dovevamo nascere dieci anni dopo e invece molti non sono riusciti in quel limbo infernale a fare invece come hanno fatto i vari che ho già citato da Fabri ai dogo a Marra ad altri come noi come Clementino comunque quella generazione lì da riuscire a consolidare scrivere il nome nel libro con lo scalpello sulla pietra che quando sei chiuso ma sai che poi c'è anche tutto quel discorso magari del vario insomma quel essere additati a commerciali quando invece magari era uno step giusto da fare in quel momento e qualcuno magari non se l'è sentita per paura di infrangere delle regole me lo ricorderò in pieno guarda io arrivo da anni in cui comunque quella mentalità quel pensiero mi ha condizionato i dischi italiani con i quali sono cresciuto io parlavano di queste cose qua cioè il rimanere puri non rimanere cioè il rimanere legati per forza alla scena la scena per la scena quasi a parlarsi addosso il rap era un parlarsi addosso il rap parlava al rap lo dicevo prima e questa cosa qua non era ben accetta mentre io poi ripeto arrivando a cavallo con il digitale quindi apri internet inizi a leggere qualcosa qualcosa che arriva da là non qualcosa che ti ha raccontato qualcuno qua che l'ha sentita da qualcun altro è il telefono senza fili ti accorgi quando in realtà ci sono delle incongruenze come è stata presa agli inizi nei primi anni 90 questa roba qua quello che secondo loro il rap doveva o non doveva dire l'atteggiamento che doveva o non doveva avere con banalmente le traduzioni dei pezzi americani che mi piacevano a me dicevo qua me l'ha stata contata cioè sembra che il rap in Italia deve per forza salvare il mondo se non sei un po' politicizzato non puoi parlare di rap se non parli dell'hip hop nella sua forma delle quattro discipline questa roba non è valida non funziona era dogmatico era bello perché ne preservava forse alcuni aspetti e soprattutto ti dava un po' di severità un po' di selezione all'ingresso nel dire sei appassionato davvero vuoi conoscere davvero o sei qua solo per mangiare su sta cosa e come va va certo però sai quando sei un ragazzino che cazzo ne sai se vuoi farlo tutta la vita cioè ci fai a sbattere contro magari personaggi del genere su uno come me sono stati molto influenti quando poi ho aperto le mie vedute verso altri orizzonti ho capito che era una visione giusta per i loro anni non poteva essere una visione giusta per noi quindi me lo ricordo in pieno quando anche solo il primo album dei Dogo sotto measure c'era chi storceva il naso me lo ricordo anche su noi stessi One Mic quando abbiamo fatto le prime cose tipo non so gli MTV Days questa roba qua si chiamava MTV New Generation era un contest abbiamo partecipato noi siamo arrivati in finale con il Bunda Bacio voglio dire tutti abbiamo fatto qualcosa poi alla fine non erano ben viste queste cose qua no infatti noi ce ne siamo fottuti a una certa comunque ti ripeto vedevo come funzionava all'estero un po' mi informavo un po' vedevo la mentalità di quelli bravi che hanno fatto scuola appunto tipo Dogo eccetera e vedevo qual è la loro direzione era dire noi il rap continuiamo a fare rap senza ombre di dubbio però il rap gli devi dare quello che si merita questo è un ragionamento che fai anche oggi musicalmente se ti ascolto come ti ascoltano in tanti eccetera io vedo sempre una coerenza con quello che hai fatto e che continui a fare soprattutto tieni ancora tanto alle rime che è una cosa che ogni tanto magari qualcuno sembra aver perso un po' un po' di vista quanto è importante per te restare attivente a questa roba nonostante magari ci sia un trend in questo momento ci sono diversi trend musicali cioè tu continui a fare quello che vuoi tu o comunque stai a guardare qualcosina che succede dici ma forse un compromesso lo posso trovare o come ma io cerco sempre un'evoluzione coerente di quello che può essere il mio il mio percorso artistico nel senso chi non cambia è solo chi muore e basta gli altri cambiano tutti col tempo spesso mi chiedo se Biggie fosse ancora vivo che musica farebbe adesso e tanti altri come lui chissà dove lo portava magari io me lo immagino un po' alla Rick Ross adesso magari hai fatto quella roba un po' soulful un po' Maybach music questo non si può dire però se ti piace questa musica e sai dove andare ad ascoltare non stai seduto sulla punta dell'iceberg fottendotene di quello che ci sta sotto troverai sempre qualche cosa che porta questa roba un passo avanti anche quando sembra impoverirsi questo genere oggi vedevo vedevo questo bel grafico qualche anno fa della quantità di parole nelle canzoni rap mondiali da partire dagli anni 80 ad arrivare ad oggi e raggiungiamo un picco fino al 2010 così e poi le parole iniziano a diventare molto di meno cioè ma la quantità di parole stiamo neanche parlando neanche il significato neanche il significato solo le parole solo la quantità di parole questo vuol dire come si è trasformata questa cosa eppure in quelle canzoni con poche parole ci sono delle hit ci sono delle canzoni che anche a me piacciono quindi bisogna capire e tirare un po' una linea di dimarcazione fra chi ne sa e chi non ne sa e qua devo citare Benzema perché lui il suo claim è io gioco a calcio per chi ne capisce di calcio io faccio rap soprattutto per chi ne capisce di rap poi il rap oggi lo capiscono in tanti quindi non è che deve avere per forza il dizionario e non so il bilancino a fianco oggi lo ascoltano in tanti poi capirlo in tanti è comunque diverso però pensiamo a un successo come il disco di quello di Marrakesh non è un disco semplice è un disco rap un disco rap importante il quale è arrivato a una certa età questo ti dimostra anche che il rap può essere longevo deve essere longevo come lo è in America come lo è da altre parti e tu già lo pensavi all'epoca cioè quando avevi 15 anni dicevi secondo me io rapper ho ancora 40 anni ah questo cosa è un po' ogni tanto diciamo quando smette quello proprio prima di noi allora vuol dire che esatto quando smette caos capiamo dove è arrivata l'asticella per capire quando smette non lo so però vedo dei ti ripeto 45 anni non è un genere musicale legato all'età come il rock ci sono ancora i Rolling Stone che sono in tour assolutamente questo fortunatamente a differenza del rock è un genere che svecchia molto meglio nel senso che ci sono delle nuove leggende il rock soprattutto in Italia soffre questa cosa qua però sì effettivamente il parallelo col vino viene bene qua cioè qua non è come il calcio che ci arrivi con la testa non ci arrivi con le gambe non è uno sport certo o meglio uno sport sotto altri punti di vista però ad esempio su quello nello sport se vuoi diventare il numero uno vai in palestra ti alleni vai in campo ti alleni come ci si allena per fare rap ci si allena certo che ci si allena per fare rap vivendo 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 appieno vivendo una vita che non sia che non sia priva di stimoli indipendentemente da dove arrivano i tuoi stimoli possono arrivare da leggere molti libri da guardare molti film da viaggiare tanto certo io per esempio non sono un grande lettore questa è una cosa che spesso quando la racconto anche nelle interviste la gente mi dice ma come scrivi così scrivi delle cose così profonde io non ho riferimenti alla letteratura non ho grossi riferimenti nella letteratura per esempio le vai a prendere dalla tua vita o dalla vita dalla musica stessa dall'esperienza dai viaggi dalla commissione culturale dai film cito tanti film per esempio però cerco anche sempre di mettermi un po' in difficoltà di uscire un po' dalla zona di comfort cioè delle volte mi obbligo a fare una cosa che magari faccio di meno perché mi serve proprio per creare riempire il sacco prima di svuotarlo quindi questo è un periodo proprio dove sto riempiendo il sacco quindi ho il telefono pieno di appunti anche solo una frase però appunto per come funziona nel mercato discografico oggi non ti dà quasi il tempo di riempire il sacco è la grossa sfida questa perché esce qualcosa di nuovo ogni venerdì un album nuovo la durata dell'album è relativa dipende che cosa c'è dentro e quindi io il paragone spesso non so se mi era capitato di farlo già qui lo faccio sempre con la musica ormai è diventato come instagram ogni singolo è un post di instagram se funziona bene se no ne metto subito un'altra o tot di tempo poi c'è un altro post cioè è un po' difficile fare fare dell'arte è drammatico stare ai tempi del mercato con i tempi dell'arte non c'entrano nulla in questo modo soprattutto per fare le cose con un minimo di vissuto infatti la nuova generazione soffre il grande problema di fare breccia con un singolo magari due magari tre poi c'è un super hype per il disco nel disco chiaramente non sono pronti perché hanno fatto due singoli e quella roba perde attenzione arriva un altro così ed è un cazzo infatti l'unica sfida della generazione odierna è durare nel tempo non è più fare i cento metri in qualche secondo questo record è un record che viene battuto ogni volta cento milioni di streaming in un minuto sembra una tariffa del telefono mille messaggi al minuto se dobbiamo ridurre la cosa a quello va benissimo è un gioco fa parte del gioco io non sto sputando sui numeri numbers don't lie check the scoreboard quindi per me questa cosa io rispetto molto chi fa i numeri però c'è l'arte di mezzo ho imparato a scendere non mi faccio ingannare ci sono tante cose che magari creano hype gli aspetti e poi poi i numeri in tanti casi devono poi tradursi anche in persone che ti vengono a vedere dal vivo ma magari succede anche però devi dare il tempo a queste cose per affermarsi altrimenti è solo una corsa che crea che mette anche pressione agli artisti stessi i ragazzi stessi non hanno neanche il tempo di vivere questa cosa arriverà qualcuno a dirgli che quello che hanno fatto fino a ieri non va più bene perché c'è un altro che sta usando tiktok che oggi devi usare quello e alla fin fine dove sta il lago della bilancia secondo me esiste sempre un compromesso quindi secondo te della scena di oggi rispetto facendo anche le proporzioni con magari la scena in cui sei cresciuto tu ne resteranno di meno sì secondo me sì è un genocidio senza ombra di dubbio se no tutti famosi come diceva Maccio Capatoni e che a me fa pressione ogni tot giorni ne esce fuori uno che magari neanche io che poi è anche il mio lavoro non conoscevo però poi dopo non c'è più lui ce n'è un altro si monopolizzano per un momento e poi infatti ripeto quando anche nel 2016 c'è stata una grossa switch di generazione quella da cui si è venuti fuori rap star odierne molti dicevano no ma questo le chiacchiericce soprattutto anche quelli che c'erano già da prima la mia posizione a riguardo ma non perché sono qua a dirlo perché sono più bello ho fatto anche un po' di radio e ho invitato queste persone erano sconosciuti e molti mi chiedevano perché li ha invitati perché bisogna parlare di questa cosa bisogna parlare di quello che stanno facendo questi ragazzi perché sta per succedere qualcosa ho sempre detto lasciamo il tempo alle cose di accadere se tra cinque anni siamo ancora a parlare di questi personaggi avranno avuto ragione perché oggi durare un anno vuol dire durare una stagione oggi una stagione non è neanche una stagione è un post di instagram siamo arrivati 15 secondi di celebrità nella storia non è più 30 minuti no diventa completamente complicato bisogna solo dare il tempo alle cose se tra cinque anni sei anni siamo ancora a parlare di questi personaggi di alcuni di loro c'è qualcuno della scena attuale che è venuto da te a dirti non dico magari grazie anche o comunque a prendere qualche consiglio da te molti mi permetto di dire che secondo me sono stata una buona vecchia scuola ragazzi che sei già vecchi no no sì no ma lo dico dico vecchia scuola per la quantità di esperienza che ho non per forza per gli anni di gioco ci sono quelli c'è gente molto più vecchia di me tra virgolette parlando che ancora oggi cazzo sta facendo cose di espressore quindi la nostra generazione è influente senza ombre di dubbio e c'è un grande riconoscimento dai parti dei ragazzi comunque questa cosa della legacy esiste ma anche nei più giovanissimi mi hai trovato magari di confrontarmi anche solo di mandarli un messaggio magari non conoscono la tua discografia non sanno tutto quello che hai fatto però sanno chi sei ti rispettano per quello che hai fatto chiaramente poi magari cercano più di collaborare fra loro è qualcuno che ti colpisce particolarmente ma ci sono dei nomi alcuni li ho già coinvolti l'Azza è già un po' che l'ho coinvolto l'Azza secondo me è un fuoriclasse Silent Bob è un fuoriclasse ecco vedi lui per esempio è un po' più distante dai radar perché magari fa meno parlare di sé perché utilizza i social diversamente o perché eppure fa tanta gente ai concerti fa dei dei signor numeri di streaming ha creato una roba solida ed è un po' fuori dal radar per esempio questa cosa ti dimostra anche quello che stavo dicendo prima non per forza devi essere sotto quel l'occhio di bue per avere un valore anche nel mercato ed è una cosa che spesso molti non capiscono pensano che se non fai un milione di follower stai morendo di fame fortunatamente questo genere invece ha creato vari livelli nei quali se ti muovi bene te la puoi cavare ma però io credo che sempre di più questa cosa pian piano si stia capendo cioè che i numeri non dico che non vogliono dire niente ma vogliono dire poco poi c'è un valore che va al di là come tutte le cose come tanti settori quindi sì ma quando fa il giro quella roba poi a un certo punto sì nonostante questo il meccanismo discografico è molto improntato ancora su quello quindi chiaramente perché quello arriva sempre dopo comunque assolutamente però diciamo è come se nel backstage fossimo tutti a parlare di quanto è bella la musica dei valori che dovrebbe avere sta roba poi quando saliamo sul palco alla fine quello che conta non è quello e ci sta se no questo è il compromesso della discografia se no e credo che valga per noi come valga in America come valga in ogni mondo come valga ad ogni livello tra l'altro prima citavi il fatto dell'andare a recuperare nei primi 2000 della musica online eccetera eccetera è una cosa che recuperavo a distanza perché non riuscivo mai a andarci non capiva dove li organizzavano erano tipo il to the beat io mi andavo a scaricare tutti i video mi li guardavo vedevo eccetera e tu in quella roba lì sei sempre stato lo sei tuttora un fuoriclasse totale e come funziona come è nata la roba del freestyle cioè ma è stato un passaggio in quegli anni doveroso cioè in quegli anni sta roba di fare freestyle era molto molto più connessa al rap oggi non lo è ci sono tanti ragazzi che non sanno minimamente fare freestyle e fanno i loro dischi ci sta in quegli anni era un passaggio poi io arrivo proprio da quegli anni lì 8 Mile esce nel 2002 sì quello era stato potente quella roba ha permesso non ne parla mai nessuno nessuno mai dà il giusto peso né 8 Mile né a Save the Last Dance che ha riportato le ragazze a ballare nei club fino ad allora era la sagra della salsiccia finalmente le ragazze nei club e di nuovo ballare le ragazze volevano ascoltare il presserata hip hop R&B capito così prima del Laos magari poi me lo ricordo proprio quel periodo perché mi chiamavano magari a fare l'MC a fare dei freestyle con i DJ locali era figo comunque come roba anzi in quinta superiore tipo il io andavo a scuola anche il sabato ma non andavo mai perché il venerdì facevo il vocalist in questa in questa discoteca discotecaccia proprio super commerciale c'era già rap per serata quello ho spostato un po' cioè quei film hanno spostato degli equilibri quindi quando noi abbiamo capito che arriviamo prima col freestyle quindi siamo andati a vederlo io parlo di quello come momento che ha portato veramente luce intorno a sta roba e quindi tanti locali organizzavano la battle di freestyle con il premio in denaro quindi è stato un po' è brutto da dire però noi ci siamo affinati in questa roba del freestyle perché abbiamo detto noi andiamo a fare le battle guadagniamo dei soldi usiamo quei soldi per fare il disco cioè questo era il nostro piano d'attacco non fa una piega non faceva una piega e in più era l'unico modo per farsi vedere cioè non ti chiamavano a suonare capito magari c'era l'open mic o la gara di freestyle tu andavi ti facevi vedere e dopo quello magari succedeva qualcosa il successo di One Mic è il fatto che il mio successo principalmente anche di poi andare a suonare in giro che ti chiamano eccetera è perché mi hanno visto quelle robe lì che poi insomma ti è riconosciuta da tutti questa cosa devo dire del freestyle c'è sicuramente un freestyle prima di me e un freestyle dopo di me ma non perché sono stato il più bravo di tutti i tempi questo non posso dirlo io secondo me ci sono anche c'è anche una nuova generazione fortissima che ha preso da quella roba lì è che io ero al posto giusto nel momento giusto con la cosa giusta poi è stato uno scambio generazionale il nostro la mia generazione ha battuto direttamente sul campo quella prima cioè è stato ancora un momento di passaggio ma lì come ti sei accorto che io se mi iscrivo anche a questa gara allora il tuo debito non ti potevi iscrivere ok io mi ero iscritto mi ero iscritto in realtà non mi sono iscritto in nessuna battle c'è stato un momento che racconto brevemente di vado a fare freestyle a questi open mic e capisco di essere più bravo di quelli che lo facevano ed erano anche più grandi di me ma non più bravo perché sono il più figo più bravo perché forse avevo questa predisposizione in più chiaramente ero più acerbo quindi ho imparato anche da loro a risultare un po' più stronzo in alcune cose magari un po' più bonaccione mettiamola così però ero svelto quindi a me questa cosa del freestyle mi veniva bene ma io mi ricordo che per me sta cosa di fare le battute di prendersi in giro tra amici alla punchline senza metterla in rima per noi era il nostro sport serale noi arriviamo da quella roba lì ci siamo sempre presi in giro quindi ho tramutato tutta quella roba lì in un repertorio ho preso quell'umorismo lì e lo trasformavo e quindi quando facevo freestyle e ti vedevo ed eri vestito male te lo dicevo ma trovavo il modo figo per dirtelo facevo un paragone intelligente divertente non per forza una cosa scontata quindi quella roba lì ho capito che si spingeva bene e quindi poi mi sono iscritto ad una battle a Torino che era abbastanza sentita in città la tecnica perfetta no 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 prima la mia famosa battle con Kiffa che c'è ancora su youtube Kiffa arrivava da una sfida molto importante che aveva fatto il giro dei nostri lettori mp3 che era la famosa sfida di Kiffa contro Fabri Fibra al Mortal Kombat anni prima e loro sdoganarono sta cosa di tua madre tua sorella fino ad allora non era così proprio di domini cioè parli di mia madre e ti arrivano a sberla era l'intoccabile bravissimo cioè era un tema noi quando abbiamo sentito quella roba siccome fra di noi lo facevamo perché quindi allora si può si può è tutelato quindi sta roba delle punchline viene boom ok vai adesso diciamo tutto quello che vogliamo senza filtri diventa stand up live prima ancora della stand up quindi quando ho capito che potevo spingere in quella direzione che ce l'avevo mi sono un po' impegnato perché poi ti ripeto io volevo fare il rapper non il freestyler non volevo essere il miglior freestyler del mondo volevo essere un bravo rapper volevo fare i miei concerti volevo cantare le mie canzoni però c'è stato anche un periodo dove non avevo tante cose da dire quindi la scrittura non aveva quindi mi sono impegnato sul freestyle poi sono successe tante cose nella mia vita quindi lì tu poi hai sfidato Kiffa che arrivava quindi già da quel momento celebre esatto noi ci passavamo quasi dieci anni io batto Kiffa e tu ri underdog in quel momento assolutamente ero sconosciuto senza ombra di dubbio ma avevano visto forse un paio di battle locali cioè era venuto fuori c'è sto ragazzino ciccione di Alpignano che spacca il culo questa era la descrizione mia era un ragazzino ciccione di Alpignano che sembra feggio che spacca da paura a fare freestyle questo era e me lo sono accollato perché effettivamente era effettivamente era così comunque era un ragazzino ciccione di Alpignano poi dopo quello ho fatto subito dopo l'estate successiva il primo Tecniche Perfette che però non era itinerante non era il Tecniche Perfette di adesso era una festa che si chiamava Tecniche Perfette e mi chiamano a difendere Torino perché avevo vinto quella battle famosa con Kiffa e arrivavano i migliori da tutta Italia arriviamo in finale io e Mondo Marcia quindi la nuova scuola prende geomonia di sta roba Mondo Marcia era già uscito ancora non era uscito non c'era neanche tieni duro era proprio una delle sue prime robe loro arrivano alla scuola di Milano erano veramente veramente forti in quel momento secondo me erano più forti di noi perché eravamo ancora noi eravamo troppo legati a sta roba di certe cose non le diciamo loro invece spudorati senza pietà senza freni ed erano proprio affilati sul fatto ma lui anche arrivava con Bassi lui arrivava con Jack the Smoker con quella cricca lì loro si beccavano avevano qua il loro scannatoio di rap che era il ora mi sfugge il nome sto facendo una figuraccia lo show off la loro palestra la loro tana delle tigri come noi avevamo il nostro ping village dove andavamo a fare gli eventi e le nostre batte quindi la loro scuola era veramente forte la prima sfida con Mondomarcio finisce a parità quindi noi sbattiamo tutti quelli della generazione precedente alla nostra arriviamo in finale io e lui e abbiamo io 16 lui 15 io quasi 17 lui quasi 16 questa era la cosa e mandiamo a casa ne ho 20 anni inoltrato quella roba rimane grossa perché poi c'è finalmente finalmente una rivalità di due stili diversi due fisici diversi lui è alto e magro io basso e grasso cioè c'era tutto la scuola di Torino la scuola di Milano scuole proprio che erano sentite nel freestyle anche in passato quindi diventa una cosa da tenere d'occhio perché noi eravamo effettivamente più forti degli altri ma di una di una spanna e lì raga non c'erano social non c'era niente c'erano il passaparola c'erano quelli che ti dicevano oh ma sai che ho visto c'erano dei video che giravano che magari ti dovevi scaricare la battle di cui parlo io non è quella che tutti conoscono non è quella che tu hai sentito quella di cui parlo io non esiste non è mai stata registrata mai stata registrata ah quindi non è quella che dici tu non è quella che si vede perché quello è il to the beat quello che si vede quello è sempre quello è Enzi contro Mondomarcio la prima volta al tecnico perfetto di Mondomarcio facciamo pareggio la seconda volta organizziamo un'andata a Torino un ritorno a Milano questo era dobbiamo stabilire qua adesso chi comanda non era questo il feo va che figo quindi facciamo l'andata da noi nella nostra tana delle tigri che è quella che conoscono tutti che è quella vince lui in quella battle dichiaratamente vince lui alla fine della battle è una battle dove potevo vincere io nessuno avrebbe no però è stata comunque era molto equilibrata molto epica e ha fatto squala a tutti i freestyler da lì in poi per quello dico c'è un prima e c'è un dopo poi ci ribecchiamo a Milano quella battle io ce l'ho in VHS noi con One Mic presentiamo il nostro CD promo e poi facciamo il ritorno contro Mondomarcio ed era tipo su dieci entrate con gli argomenti con gli oggetti così vinco le prime sei tipo cappotta ping pong basta finito quindi siamo eterni pari merito rivali non c'è mai stato un oh ma sai che ci ribe anche solo per voi no mai mai tipo Apollo e Rocky credo e via andare guarda ci è capitato una volta di fare freestyle in radio ed è sempre forte cioè quando c'è quella roba è un po' come andare in medici poi ti puoi allenare sì ti puoi affinare ma lì quanti cioè comunque quando fai freestyle e quando vi dite certe cose è come non so nell'NBA quando ti scontri in campo e poi fuori tutti amici o qualcuno ci si sta sul cazzo davvero eh no beh capita chiaramente non è che possono andare tutti d'accordo no però quello credo che sia un fattore anche quello sì assolutamente cioè se uno ti sta sul cazzo davvero beh in passato le gare si facevano solo per questo è certo se tu mi hai detto qualcosa in un disco o ho sentito che hai detto qualcosa la risolviamo così sì e infatti la sfida di freestyle non era mai amichevole fino alla mia generazione la mia generazione l'ha resa amichevole certo ci diciamo le peggio cose ma poi è finito là io personalmente non ho mai avuto di verbi né prima né dopo né durante no tra l'altro l'altra cosa che ho sempre notato di te in generale anche come hai percepito dalla scena in generale mi sembra adesso non vorrei dire una cazzata mai ci sono cose che non conosco però molto voluto bene non so come dire c'è sempre un segno di riconoscenza nei tuoi confronti lo vedo quando magari posti qualcosa sui social ti viene sempre riconosciuta una figura un'autorità e difficilmente ho sentito anzi mai ho sentito parlare male diciamo di te mi sembra che la scena in generale su di te sia molto allineata tutti d'accordo sì una volta ho detto non parlo di hater perché non ne ho in effetti ce l'ho qualcuno che sicuramente non gli va genio diciamo che secondo me ho sempre argomentato molto sia coi fatti che con le parole le cose che ho fatto e che ho detto e credo di essermi comportato in maniera giusta dal punto di vista musicale per esempio nel nel fare le cose con i giusti tempi e questa cosa mi è stata riconosciuta di non aver mai provato una scorciatoia neanche in un momento favorevole della mia carriera che non ho mai provato a marciare su cose del passato solo per anche sta roba del freestyle sì ci ho marciato quando era giusto farlo poi basta cioè non ho mai avuto la pretesa di essere credo che questa cosa è come dire giochi fai sempre le tue cazzo di partite ne esci fuori magari non sei il bomber non hai fatto il 100 gol non sei il più pagato il calciatore più pagato però quando ritirano la tua maglietta domani quel numero non se lo mette più nessuno la capito questa cosa te la crea solo un percorso solido e rispettabile e credo che questa cosa abbia premiato il mio modo di fare il mio modo di vedere questa cosa poi ho resistito a tante generazioni fino adesso ho continuato secondo me a fare dei dischi anche influenti nonostante tanti anni nel gioco questa non è una cosa mai scontata da sottovalutare e poi magari anche con la musica stessa quello che dicevi tu prima di provare sempre cose nuove non ho mai fatto la stessa cosa capito cioè uso sonorità nuove ho utilizzato l'autotune quando ero qua già nel 2010 non sono mai stato un hater gratuito non ho mai cavalcato una cazzata per creare hype intorno a me credo che questi siano gli ingredienti che mi abbiano permesso di essere rispettato è il fatto che poi sul rap non si discute questo lo sanno i primi in classifica come gli ultimi stronzi per strada e questa è una cosa sulla quale mi batto perché alla fine è questo tu puoi ottenere rispetto in mille modi puoi ottenere rispetto perché arrivi da una situazione non so un po' criminale un po' malavidosa allora la gente ti rispetta e fa le cose con te perché vuole un po' avere a che fare con quella roba un pochino ci si vuole sporcare oppure ti rispettano perché sei influente nel gioco però magari non gli piace abbastanza e quindi si vedono anche queste cose secondo me nel game io sto sempre fuori da queste dinamiche quindi quando collaboro anche con gente magari cassorie pesanti o magari collaboro con un ragazzo più giovane è perché è una cosa sentita non stai cavalcando un hype o un prendo secondo me questa cosa la gente l'ha percepita e non mi sono neanche mai messo in mezzo a troppe stronzate cioè ho detto con la musica quello che dovevo dire anche perché anche dissing e cose così non devi essere comunque allenato per dissarmi bello mio devi essere abbastanza coraggioso devi stare anche attento perché poi sono il dissing poi stiamo parlando dell'arte di fare rap certo io in quella roba sono lapidario lo sanno cioè sul dissing proprio è arrivo da quella roba lì quindi non venite proprio a fottere non si fotta a casa dell'altro ogni tanto lo dico sempre sto ancora cercando un pazzo che mi dista delle volte sai molti mi hanno detto ieri tu però non creando questo tipo cioè creando sempre questo tipo di empatia positiva e non creando mai un punto di di rottura anche perché magari non lo so non esprimo sempre il mio parere sui social io esprimo il mio parere magari come la penso lo dico in un pezzo però io non mi faccio mai carico non mi vedrei mai lì a fare stories sul fatto quotidiano accaduto poco fa certo magari ricondivido una notizia che mi crea piacere o disgusto non lo so e scrivo una cosa ma è raro è raro perché preferisco parlare perché internet è una scatola di incomprensioni e quindi non riesci mai ad argomentare quindi anche le volte che magari sono stato messo in mezzo alcuni discorsi o cose ho risolto parallelamente da questa faccia sì perché a volte non bisogna per forza avere un'opinione pubblica su tutto questo è un grande problema poi oggi perché poi non hai come dici tu non hai mai il tempo di argomenti tu magari pensi una cosa che è fraintendibile in tre secondi non hai mai modo di spiegarti sì sì non hai il modo di spiegarti e soprattutto internet ha la capacità di alterare qualsiasi il telefono senza fili di cui parlavamo prima solo che è gigantesco perché coinvolge troppe persone quindi cerco di non ammalarmi mai troppo dietro a questa cosa dei social ed essere diventato papà sulla musica che impatto ha avuto? totale totale sulla musica sulla vita quindi se impatta sulla vita impatta sulla musica perché non ho mai fatto delle cose che non coincidano in qualche modo quindi sicuramente mi ha avendo ribaltato le mie priorità mi ha fatto avere anche dei punti di vista differenti su alcune cose penso a delle piccole cose che per le quali prima mi arrabbiavo di brutto magari o del mio lavoro che mi coinvolgevano particolarmente oggi sono briciole ci sono se ti vengono in mente tre canzoni tue che farai sentire a tuo figlio se non gli avevi già fatte sentire per fargli capire delle cose ma io credo di avergli lasciato un bel un brano bello tosso quando sarà grande lui ha una canzone che si chiama come lui e lì gli ho detto quello che gli volevo dire cioè sono quelle cose che lo puoi fare solo prima dopo non lo puoi fare lo devi fare prima per forza perché ci devi mettere dentro tutto le speranze la possibilità alta che io faccia degli errori ok capito in quella canzone c'è tutto con grande onestà quindi quella la metto al primo piano poi magari ci posso mettere numero uno perché è un pezzo molto motivazionale cioè come dire nessuno ti darà quello che ti meriti quindi devi magari anche tutto il mondo è quartiere che è un pezzo dove parlo di cioè l'integrazione come Fidel Rouge ma non è solo quello ed è c'è anche una rimastu di lui poi alla fine quindi è come dire il mondo è di tutti respiriamo la stessa aria guardiamo lo stesso cielo camminiamo sulla stessa terra questo è un concetto che oggi più che mai secondo me le generazioni nuove devono completamente fare loro ed è un problema soprattutto delle nostre generazioni di quelle precedenti per i ragazzi questo problema non esiste non esiste però fin quando non viene completamente scardinato e non impariamo a essere un po' più esseri umani e tante altre cose veramente confido molto in questa generazione poi io di base sono uno che non è mai così pessimista devo dire che vedere e vivere questo mondo inevitabilmente non è che ti porta a essere così pronto a stappare una bottiglia perché le cose stanno andando bene cioè oggi è brutale dire che l'Europa è il miglior posto dove nascere nel mondo ma è effettivamente così e abbiamo una guerra dietro le spalle quindi stiamo lasciando un'eredità un po' misera a quelli che vengono dopo di noi ma credo che quelli dopo di noi saranno più svegli cioè io guarda mi incazzo anche con i miei con i miei amici e dico noi siamo delle belle persone dobbiamo fare dei figli perché noi li possiamo educare bene queste persone possono essere migliori di noi devono essere migliori di noi è una questione di educazione è una questione di senso civico di insegnare questa cosa cioè mio figlio ha chiaro che c'è la raccolta differenziata e deve avercelo chiaro la mia generazione non ce l'aveva chiaro tutte le foto che ho con mio padre e lui mi tiene in braccio e fuma vicino a me capito è sicuramente una generazione e sarà più consapevole dobbiamo per forza essere questa è l'unica cosa che gli dobbiamo dire perché gli stiamo dando gli stiamo confezionando un mondo che fa schifo dovranno impegnarsi per fare in modo che che non succedano le cose brutte che vediamo nei film che sia meglio sta andando tutto in quella direzione ci sono degli argomenti è l'argomento principale il futuro distopico è l'argomento principale ogni tanto guardo i film e dico ma tanto andrà così cazzo incredibile andrà così sicuramente quindi bisogna essere pronti ad avere una generazione più umana però confido perché comunque mi relaziono anche con altri genitori almeno nel mio piccolo vedo cose positive speriamo 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 l'ultima volta che hai fatto freestyle ce l'hai? te la ricordi? a me capita spesso di fare freestyle a oggi per me è un po' come estemporaneità pura lo metto all'interno anche dei live come una sola con quello che viene cioè fate ancora sai che io ho un ricordo di Clementino in cui lui faceva l'animatore turistico in un villaggio in cui io ero in vacanza da bambino e c'è glielo ho detto anche a lui ovviamente se la ricorda e tutti i venerdì sera vicino alla spiaggia faceva mettere tutti gli ospiti del villaggio in cerchio faceva tirare fuori gli oggetti e lui faceva freestyle e poi mi ricordo che alla fine aveva il suo cd che lo faceva e lo vendevo comunque lo regalava adesso questo non me lo ricordo però era una cosa che sempre da bambino mi aveva praticamente flashato il freestyle a sta forza qua lo capisce la signora in piazza io ho beccato feedback da signora in piazza più grossi da chi ne capisce perché comunque queste cose sono non puoi mentire è una cosa qua dentro ti verrebbe da dire qualcosa non lo so su questo studio o su qualcosa che ti viene ora ma non so sicuramente mi viene se faccio freestyle mi viene sempre da fare freestyle infatti non è non è facile la cosa di fare freestyle ti ripeto per me ad oggi è un po' come l'assolo nel jazz lo butto fuori quando mi va di buttarlo mi capita anche con i miei amici di fare freestyle a casa che uno dice cazzo ma non siete grandi per fare freestyle a casa chiaramente non è che facciamo le nottate che ci chiudiamo però se siamo fra amici giochiamo alla playstation stappi una birra fumi fai due barre è una cosa in cui ti rifugi anche un po' secondo me fra di noi è anche esiste sempre questa è come fare braccio di ferro una roba del genere voglio essere più bravo cioè tipo Lazza che è bravo a far freestyle ci capita più volte ci punzechiamo quando facciamo freestyle ci punzechiamo non è mai facciamo freestyle e prendiamo in giro gli altri ci prendiamo in giro farà di noi ma lo facciamo veramente come se fosse una partita di ping pong ed è figo ed è figo tutto quello che hai detto io spero che insomma tanti anche artisti del futuro abbiano ascoltato quello che hai detto io ti faccio un sacco di complimenti ti ringrazio tantissimo per essere venuto per me è stato un piacere essere qua e sai che ti stimo grazie mille davvero davvero a prestissimo grazie mille grazie mille